Buongiorno! Oggi ho preparato questo pranzetto, la fantasia, ci vuole l'amore, ci vuole ingucine. In cucina sono tira tutto, con l'amore e con la passione. Oggi ho preparato le pacche con le macchine di mare. E' una bellissima colata al forno che abbiamo preparato. E che voglio dire? Ci vuole sempre l'amore e la fantasia. Sono tutti gli amici. Grazie per la visione!